Conferenza stampa di presentazione a Palazzo De Bruzzi a Cosenza del progetto integrato per la manutenzione, il decoro urbano ai fini di una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini. Nel corso dell'incontro con la stampa, il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, affiancato dall'assessore allo sport Carmine Manna, ha illustrato nel dettaglio il progetto. Sì, abbiamo riorganizzato, re-ingegnerizzato il servizio di manutenzione della città, riguarderà tutti gli spazi verdi e tutte le aree di pregio dal punto di vista delle ville comunali, tutti i luoghi che sono anche deputati a diventare sempre più luoghi di frequentazione anche dei cittadini di Cosenza. Ci sono poi tutti gli altri appalti che sono riferiti ai servizi che dovranno essere svolte all'interno degli edifici comunali, al servizio che riguarda tutta l'attività a supporto della cultura e dei teatri, lo spazzamento nel centro storico. Abbiamo organizzato per aree di interesse i vari gruppi di lavoro che dovranno essere costituiti e a quale potranno partecipare i soggetti giuridici che hanno i titoli e che poi devono assolutamente fare riferimento ai lavoratori che hanno svolto negli anni passati queste attività all'interno del Comune di Cosenza. Partirà dunque una nuova fase per le cooperative di tipo B a cui saranno affidati, attraverso un rapporto di trasparenza e legalità, nuovi servizi da offrire al cittadino.